Buongiorno! 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 Il Pierino c'è una strada in barbio e Pierino dica al Signore una valigia sta avversando cascando sul Signore quindi Pierino diceva e si raffeggia e allora il Signore dice va in barbio casca, casca va in barbio uno casca la valigia e allora il Signore che vuole vedere la valigia bravo bravo avivare il Signore il Signore il Signore Poi fai da queste lette, mi faccio vedere la prova di... Un giro, un giro, un giro, un giro. Un giro, un giro, un giro, un giro. Un giro, un giro, un giro, un giro, un giro. Un giro, un giro, un giro.